Dagli ebrei ogni settimana durante il sabato si legge una porzione della Bibbia. Questa settimana abbiamo letto proprio stamattina la porzione in cui si racconta del Mar Rosso che si spacca in due. C'è il popolo ebraico che è appena stato tirato fuori con la forza dopo le dieci piaghe che Dio ha mandato sugli egiziani. Il popolo ebraico viene tirato fuori dall'Egitto. Questo popolo si ritrova con i nemici che stanno inseguendoli da dietro. E davanti, non si sa perché, o dopo si capirà, Dio li porta a lunga la strada e li porta davanti al Mar Rosso. Dove poi avrebbero dovuto, attraverso il quale avrebbero dovuto poi entrare nella terra di Israele. Anche se poi per svarati motivi non entreranno in quel momento ma ci entreranno 40 anni dopo. Immaginatevi questo popolo che è appena riuscito a fuggire dalla schiavitù dopo 210 anni di schiavitù. dove hanno dovuto costruire piramidi, dove sono stati uccisi i loro figli, dove sono stati veramente schiavizzati i lavori forzati per centinaia di anni. Immaginatevi questo popolo che finalmente è stato liberato e all'improvviso si ritrova che Dio, sembra che gli abbia giocato uno scherzo, si ritrovano che i popoli vengono inseguiti da dietro e davanti c'è questo mare e non sanno che cosa fare. Allora c'è un tumulto all'interno del popolo ebraico, ci sono alcuni che dicono basta torniamo indietro, abbiamo sbagliato a uscire dall'Egitto, dobbiamo tornare e si vede che il nostro destino è quello di essere degli schiavi. Altri dicono no, fermiamoci, mettiamoci a pregare, assolutamente, tutto il nostro destino è nelle mani di Dio ma noi dobbiamo star fermi qua e pregare e vedere cosa lui farà. Altri che dicono mettiamoci a combattere, scusateci, ci vengono ad attaccare, mettiamoci, combattiamo anche noi. E altri che dicono stiamo fermi e vediamo che cosa sta per succedere. C'è soltanto una persona, una sola persona, in tutto il popolo che dice ma cosa stiamo facendo? Stiamo fermi, ci mettiamo a pregare, è giusto pregare, però dobbiamo anche fare qualcosa. Sicuramente non torniamo indietro per darci in pasto ai nostri nemici, dobbiamo fare qualcosa. E questo signore si chiamava Nachshon Benaminadav, un nome veramente che rompe i denti, ma è un nome che mi rimbomba sempre nella testa. Ogni volta che c'è una difficoltà, ogni volta che c'è un ostacolo da superare, ogni volta che mi dico ok, forse non ho pregato abbastanza, prego, mi metto a pregare. Ma non è mai sufficiente. Questo Nachshon Benaminadav, guarda questo popolo disperati, perché era un popolo disperati, con il loro pane azimo sulle spalle e i bambini che piangevano, bloccati davanti a questo mare con le onde altissime durante la notte. E cosa fa? Dice ragazzi, c'è solo una cosa che dobbiamo fare, possiamo farlo entrare dentro al mare. E tu ti lo guardi, tu sei pazzo, affogherai. Dice, ma se Dio ci ha portato qua, vuol dire che Dio sa che noi lo attraverseremo questo mare, ma forse vuole vedere che noi veramente crediamo in Lui e in noi come popolo e ci buttiamo. E quindi Nachshon Benaminadav è iniziato a camminare in questo mare tumultuoso, è iniziato a camminare, racconta il Midrash, che è iniziato a camminare fino a quando l'acqua è arrivata al collo. E c'era tutto il popolo ebraico che lo guardava dalla spiaggia, diceva, questo è andato di testa. Quando l'acqua è arrivata al collo, all'improvviso Mosè ha teso il suo braccio sul Mar Rosso e le acque si sono aperte. E questa lezione è una lezione di vita enorme, a cui penso veramente sempre. Noi possiamo credere nei miracoli, possiamo credere in tutto, ma il primo passo spetta sempre a noi. Devo sempre noi darci da fare, perché se noi non facciamo primo passo e diciamo siamo persone di fede, noi crediamo che possa succedere, ma non ci diamo da fare con tutto noi stessi per cercare di cambiare, di migliorare la nostra situazione, di migliorare noi stessi, nulla potrà accadere. Quindi quando vi perdete un po' d'animo, pensate a questo matto signore di nome Nachshon Benaminadav, che si getta in queste acque tumultuose del Mar Rosso durante la notte e che è sicuro che siccome lui si è gettato, Dio spaccherà il mare ed infatti è successo così. Buona serata a tutti.